Quale bici dovrei comprare? La bicicletta verde o rossa? Qual è il problema? Il mio colore preferito è il verde. Allora compra la bicicletta verde. Ma la bicicletta rossa è più conveniente. Quindi compra la bicicletta rossa. Ma la bici verde è più veloce. Se vuoi una buona bici, compra la bicicletta verde. Se vuoi una bici a buon mercato, compra la bicicletta rossa. Non mi piace il rosso. Quindi è deciso. Sì, vado a comprare la bicicletta rossa. Che cosa? È che non ho molto denaro.